LA Regina ha liberato il suo fitto diario durante il fine settimana del giubileo in modo da poter finalmente incontrare la sua pronipote il giorno in cui compirà uno, si prevede che sua maestà, 96 anni, salterà uno dei suoi eventi sportivi preferiti, l'Epsom Derby, sabato 4 giugno. La data segna il primo compleanno del principe Harry e della figlia di Meghan, Lilibet, e con la famiglia fino a celebrare il weekend del giubileo di platino della regina, la regina si è assicurata di liberare tempo da trascorrere con loro, Harry, 37 anni, e Meghan, 40 anni, festeggeranno il primo compleanno di Lilibet al Frogmore Cottage di Windsor insieme alla regina. La coppia, insieme ai loro due figli Archie e Lilibet, hanno in programma di trascorrere il weekend del giubileo di quattro giorni nella residenza. Il giubileo di platino dovrebbe stancare la regina, che ha sofferto di problemi di mobilità episodici negli ultimi sei mesi e usa un bastone da passeggio per spostarsi. Gli aiutanti della regina stanno tentando di ridurre al minimo il suo diario nel corso della prossima settimana, fonti vicine alla regina affermano che sta diventando sempre più improbabile che si recherà a Epsom per il derby dopo che tutti e tre i suoi cavalli si sono ritirati dalla corsa. La regina ha in programma di saltare il saluto ufficiale di Trooping T-Color di giovedì, ma apparirà due volte sul balcone di Buckingham Palace per guardare il fly passato e per ricevere un saluto dalle guardie di ritorno. Il principe Harry e Meghan Markle, insieme al principe Andrei, 62 anni, hanno in programma di partecipare al servizio di ringraziamento di venerdì nella cattedrale di Stipol, con anche la regina che spera di partecipare. Prima che il Covid-19 colpisse, la regina aveva saltato il derby solo due volte, durante una visita di stato in Svezia nel 1956 e il quarantesimo anniversario del D-Day in Francia nel 1984. Il momento doveva un l'epoca di partecipare al solitario del D-Day in Francia nel 1945 e il Hole, anche il periodina di partecipare nel� RB di B-Color dialingre. Il festezzolansio del D-Day in Francia nel 1999 e il nostro costa di partecipare al corso di Monti gli altri, Il signore del D-Day in Francia nel 1945 è vero che il servizio di D-Day in Francia nel 2010 e il nostro luogo di un ufficiale di Porto. Il nostro più ricordo è il suo passato il nostro cuore delle apostle con l'opi e delle materie d'altro Grazie a tutti. Grazie a tutti.